È stato preparato e costruito in tre periodi di decorazioni diverse. Abbiamo il periodo del 1700, periodo in cui è stato costruito lo stranone per la vala costretta nella pietra. Questo vala costretta in più è un costretto, poiché nel 1700 è arrivato a costretta in 4 cordi e 10 punti di pietra, come minima, come è il modo di fare nel 1600. Nella seconda parte decorativa, nel 1800, è stata posta sul pianerattolo dove vi trovate voi, alle vostre spalle, un gesto dell'automonte, che era figura appunto nel momento in cui Positone manda non solo quei tue marini a punire l'automonte per essersi messi in mezzo con questa pietra della storia. Infatti, Positone l'ho deciso da Positone dei Marini con i suoi figli. Nel terzo periodo, che va dal 1800 al 1900, verso la fine dell'Ottocento, sono state sistemate le murature, cioè è stata decorata la parte muraria ed è stata decorata la tribola. Infatti, nella tribola avete visto il vario con una rafficurazione di Apollo e della mia erva e della mia erva. La rafficurazione di Apollo è collegata comunque con tutta la storia della mia erva, infatti parliamo di più oltre qui in là. Fu una figura che è una sorta di ringraziamento della famiglia reale paracene, a cui la domenica nata era molto legata, infatti prendeva parecchio sostenuto da questa famiglia. E quindi, niente, come potremmo vedere avanti, nell'altra sala è la figura di Apollo, quindi possiamo seguire. Grazie.